L'Abruzzo zona gialla? Sai che soddisfazione, noi giochiamo coi colori e intanto la situazione peggiora. A dirlo è il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, in un'intervista rilasciata alla stampa nazionale. La seconda ondata del Covid mi sembra più forte della prima, ha dichiarato il governatore. I pazienti sono meno gravi ma aumentano a dismisura. E Marsilio non risparmia attacchi al governo Conte e alle misure anticontagio imposte da Roma. Modello sovietico, così le definisce il presidente abruzzese, un'ossessione burocratica di voler pianificare sempre tutto. Si è visto come sono andati a finire i piani quinquennali, conclude Marsilio, l'URSS è fallita. E non si è lasciata attendere la risposta delle opposizioni. Marsilio fa propaganda con la vita degli abruzzesi, questa la dura reazione del segretario regionale del PD, Michele Fina, che parla di tragica impreparazione nel tracciamento, nella prevenzione, nel contenimento. Specialmente laddove ora è più colpito, nelle aree interne, dichiara Fina, l'Abruzzo vacilla. E anche secondo i 5 Stelle Marsilio utilizza il suo ruolo per far propaganda contro Roma. La notizia di alcuni giorni fa dei pazienti Covid parcheggiati nelle ambulanze in attesa di un posto letto a Chieti, sottolinea la capogruppo pentastellata in regione, Sara Marcozzi, fotografa la gravità della situazione che stiamo vivendo, mentre il nosocomio tetino è in affanno. Ma Marsilio su questo si difende. Dovevamo creare posti letto quest'estate, ha detto il governatore, ma la delega da parte del commissario Arculi mi è stata data solo 30 giorni fa. Il primo errore compiuto dall'amministrazione regionale, però, ribadiscono i 5 Stelle, è stata la scelta politica di non cambiare i vertici della ASL di Lanciano Vastochieti. Il direttore generale, Thomas Schell, conclude la Marcozzi, andava rimosso mesi or sono per manifesta incapacità.